Già domani l'anteprima della rassegna stampa di Re News 24 venne ritrovati al nostro pubblico che ci segue da casa e a cui tra poco mostreremo tutti i giornali, le prime pagine che sono già arrivate sulla nostra edicola virtuale e poi li commenteremo naturalmente come ogni sera con degli ospiti collegati con noi. In uno sguardo anche al mattino di Puglia e Basilicata il PAS non spinge i vaccini, il flop del geniale Parole di Brunetta certificato di costrizione del governo e poi Lucano speculava sui migranti, la condanna pesante della magistratura, 13 anni di carcere. Dunque questi i titoli dei principali quotidiani che tra poco troverete sulle vostre edicole.